Ma che bella sorpresa! Allora, mentre vi dico che fra un po' si giocherà la frase matta, vi ricordo anche che Roma non gioca. Fino adesso siete stati gentilissimi a non intasare i centralini, grazie, andiamo avanti così, Roma giocherà dopo il Tg1 di mezzasera. Però non telefonate dall'Eure 15 in redazione che le nostre redattrici devono lavorare. L'importante per giocare alla frase matta è di cominciare a telefonare durante la trasmissione, all'inizio della trasmissione. Eccomi qua pronta a giocare alla frase matta. Roberto, se mi vuoi portare le buste. Buonasera. Buonasera, fermati un attimo. Roberto, il tuo cognome, tu sei famoso, ma il tuo cognome è ancora di più. Cuccarini. Cuccarini, mi ricorda qualche cosa, una ragazza molto bella e molto brava. Chi è? Mia sorella. Parla qua vicino. Mia sorella. Ecco, che cosa fa? La show girl di Fantastico. Ecco, sei contento di lei? Moltissimo. E lei è contenta di te? Altrettanto. Beh, una famiglia perfetta. Ok, auguri Roberto di arrivare dove è arrivata tua sorella. Grazie. Va bene? Prego. Ok. Grazie. 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 Grazie per la visione!